ci ha portato qualche slide per capire un po' quello che è successo e che sta succedendo, vediamo gli ultimi mesi, esempio, parliamo del mese che è appena concluso, quello di agosto, il caldo della storia, almeno di agosto, quindi sulla terra, andiamo a vedere un po' la prima slide perché ovviamente sono molto interessanti come dati e ci danno la possibilità di capire quello che stiamo vivendo e anche quello che potrebbe succedere. Allora, la prima slide, direttore. Sì, beh, io direi che forse vale la pena iniziare da questa perché, come dicevamo, insomma, quest'estate del 2023 è stata un'estate molto particolare ed è un'estate che è iniziata, beh, l'estate inizia a giugno, però è iniziata a giugno anche in modo molto violento, se vogliamo dirlo così, è iniziata a giugno, all'inizio di giugno abbiamo passato a livello di temperatura media globale il grado e mezzo, il famoso grado e mezzo citato negli accordi di Parigi e poi abbiamo visto questo aumento strepitoso e senza precedenti, la nostra storia recente della temperatura dell'Atlantico del Nord. Ed questo è stato uno degli aspetti, secondo me, più, sì, sorprendenti ma anche più caratteristici di quest'estate perché questo è un anno del nino, sappiamo che la temperatura del Pacifico sta, aumenta, come sempre succede negli anni del nino, però quest'anno poi è il record di temperatura che abbiamo visto a luglio e poi ad agosto e che è poi permesso all'estate nel suo complesso tra giugno e agosto di essere la più calda estate a livello globale di sempre. E questo è stato dovuto anche a questo aumento della temperatura degli oceani, per cui in linea di massima secondo me vale la pena sottolineare che abbiamo una buona comprensione di quello che succede e la scienza e i dati da satellite e i modelli descrivono in modo abbastanza fedele quello che è stata l'evoluzione della temperatura a livello globale, però è anche vero che bisogna ogni tanto guardare i dati e in questo caso anche sorprendersi perché ci sono state le accelerazioni significative e penso che questa dell'Atlantico del Nord, qua stiamo guardando il grafico in cui la temperatura del 2023 nella linea nera è confrontata con quelle che sono le anomalie di temperature rispetto alla climatologia, rispetto a quella che è la temperatura tipica del periodo nei decenni precedenti, cioè i diversi colori, le linee dei diversi colori rappresentano decenni del 2010, 2020, 1990 e così via. E come vediamo... Scusami, continuo, finisci pure. No, dicevo, quello che si vede nel 2023 è veramente che è un anno che nel Nord Atlantico è stato molto sorprendente, molto inusuale. Volevo dire, perché hai parlato di estate, ovviamente nel emisfero Nord, ma abbiamo visto delle temperature record, per esempio in Sud America, dove è inverno o è stato inverno, insomma l'inverno è appena finito, si è parlato appunto, ci sono state punte raggiunte abbastanza alte, soprattutto in Peru, se non sbaglio, è stato l'agosto più caldo della storia, almeno da quando appunto c'è la serie storica. Sì, sì, nelle zone del Sud America, nell'alto Pacifico al Sud America è stato un anno particolarmente caldo, con record di temperature, anche in Brasile per dire la verità, e in Argentina, però nella costa Pacifica è sicuramente stato un anno notevole. E in questo senso però è anche, adesso non voglio dire che sia meno sorprendente, perché comunque è stato un anno eccezionale sotto moltissimi punti di vista, però per quello che riguarda il Pacifico, la costa del Sud America, la costa Pacifica è un anno del nigno in cui abbiamo avuto un aumento della temperatura superficiale dell'oceano, specialmente lungo la costa del Sud America, prima che poi l'anomalia di temperatura si estendesse verso il Pacifico centrale, per cui esiste una relazione tra le due cose. Non dico che non sia sorprendente, perché comunque è stato un anno veramente che non ha precedenti da molti punti di vista, però si può spiegare anche con questo effetto. E questo secondo me è anche una delle chiavi che bisogna tenere in considerazione, che il cambiamento climatico non è che avviene in modo isolato, avviene e si sovrappone ai modi di variabilità che sono tipici nel nostro sistema climatico, per cui abbiamo anni più caldi, abbiamo anni più freddi, il nigno è un fenomeno non esattamente periodico, perché non ha una periodicità fissa, però che si ripete negli anni, per cui sappiamo che negli anni del nigno, come sarà, come è questo 2023, la temperatura media globale tende a essere più alta del solito, gli anni della nigno sono anni più freddi e questa è una delle varie oscillazioni che caratterizzano il nostro sistema climatico. Però quello che è interessante secondo me è che sovrapposta a questa oscillazione più o meno periodica esiste una tendenza chiarissima verso il riscaldamento, tendenza che quest'anno ha reso le temperature globali veramente senza precedenti. E questo aspetto, quando parlo, scusatemi per la trasparenza in inglese, però quando parlo di uncharted territory, di territori sconosciuti, è veramente così, nel senso che nella nostra storia, i nostri dati, quelli che abbiamo all'interno del servizio dei cambiamenti climatici di Copernicus vanno indietro fino al 1940, però abbiamo, non direttamente noi, ma la comunità scientifica ha dati che diventano sempre più incerti, però comunque abbastanza certi per rendere queste temperature inusuali negli ultimi, certamente negli ultimi migliaia di anni. Per cui, probabilmente, nella nostra storia, quella che abbiamo vissuto adesso, nel 2023, è l'estate boreale più calda di sempre. E questo è sicuramente un punto di riflessione. E quando si dice, quando qualcuno dice, vabbè, ma c'è successo in passato, è stato caldo, molto caldo sulla Terra in passato, oppure dicono, vabbè, colpa del sole. È giusto? È corretto? O ci sono degli errori, quello che viene detto? Tutto sta nei dettagli, no? Nel senso che bisogna... il diavolo è nei dettagli, come si dice. Nei dati storici di cui abbiamo accesso, per cui nelle nostre ricostruzioni, e io cerco di parlare sempre dei dati... uno dei punti di forza, secondo me, del programma Copernicus è proprio la politica dei dati. Tutti i dati che generiamo o che rendiamo disponibili sono disponibili in modo aperto, gratuito e illimitato. Per cui, le affermazioni che facciamo sono sulla base dei dati a cui chiunque può accedere e che possono essere verificati. Per cui, a partire dai dati che abbiamo, sappiamo con certezza che dal 1940, dal primo gennaio al 1940 a oggi, non abbiamo mai visto un'estate come questa. Adesso, visto che non ho i dati dei decenni precedenti, quello che posso dire sui secoli passati o sui millenni passati è legato più alla nostra conoscenza scientifica, anche quella presentata all'interno del rapporto dell'IPCC. E sulla base di questa conoscenza possiamo dire che questa estate è inusuale, non ha precedenti nella nostra storia come esseri umani, e probabilmente non ha precedenti nei quasi centomila anni. Per cui è veramente abbastanza inusuale. Ovviamente, mentre sugli ultimi 80 anni, lo posso dire con molta certezza, più andiamo indietro nel tempo, più c'è un margine di incertezza, più è grande il margine di incertezza. Però le informazioni che ci vengono dagli anelli di accrescimento degli alberi, dalle piccole bolle di aria catturate o bloccate all'interno dei ghiacciai, dai sedimenti nei laghi tropicali, e da molti altri dati paleoclimatici ci fa pensare che effettivamente c'è un'alta probabilità che questa estate che abbiamo visto non abbia precedenti alcune decine di migliaia di anni. Per cui è veramente poco usuale nella nostra storia. Adesso, sull'aspetto invece solare, là possiamo essere un po' più fermi, un po' più decisi, perché ovviamente le variazioni dell'intensità del sole sono uno dei meccanismi che controlla il nostro clima, come ce ne stanno molti altri, però il sole indubbialmente gioca un ruolo importante. Però se guardiamo il modo in cui il sole influenza la temperatura del sistema Terra, variazioni dell'intensità solare hanno una certa firma, se vogliamo dirlo in qualche modo, sul sistema climatico, che è diversa da quella che vediamo. Cioè, per esempio, uno degli aspetti che si vede chiaramente di questo riscaldamento globale è che la parte più bassa dell'atmosfera, quella che chiamiamo l'atroposfera, dove vediamo le nubi, dove piove, dove viviamo, si scalda, però la parte più alta dell'atmosfera, quella che si chiama la stratosfera, si raffredda, e questo è fondamentalmente una conferma del meccanismo che sta riscaldando il sistema climatico, perché l'aumento dei gas air, in particolare del CO2 e del vapore acqueo, aumenta la capacità di trattenere il calore, ma diminuisce la quantità di radiazione che esce verso l'esterno, per cui ci aspettiamo questo raffreddamento della stratosfera, cosa che non ci aspetteremo se invece questo fosse dovuto a una variazione solare. Per cui, ovviamente, bisogna tenere in conto tutti questi possibili aspetti, perché tutti questi, incluso il Sole, giocano un ruolo importante, però non sono sufficienti a spiegare quello che stiamo vedendo. Il riscaldamento che vediamo è in larghissima misura dovuto alle emissioni umane. Grazie Carlo. Vediamo un'altra slide, la prossima, poi passiamo ai prossimi ospiti, che è quella relativa alla siccità. Adesso magari riusciamo a mettere a tutto schermo, chiedo alla regia. Perché? Perché è importante, perché noi abbiamo appena avuto appunto un'estate molto calda, però la siccità è stato un problema grosso l'anno scorso, lo scorso anno, ma anche in un'esilio dove la teoria doveva piovere. Poi culminata magari anche a maggio, ad esempio, scusate un secondo Carlo, culminata a maggio, ricordiamo tutti, l'alluvione in Emilia-Romagna è arrivata immediatamente dopo un grosso e lungo periodo di siccità. Io penso sia interessante questa trasparenza per vari motivi. uno è che queste sono varie mappe ognuna al 15 di ogni mese dal gennaio in alto a sinistra fino a dicembre in basso a destra dell'anomalia di umidità del terreno rispetto ai valori standard in Europa. E penso sia interessante perché innanzitutto la siccità nel 2022, qua stiamo parlando del 2022 e questo è uno dei grafici che fanno parte del nostro rapporto sullo stato del clima europeo che ogni anno pubblichiamo verso la fine di aprile il giorno del il 23 di aprile il giorno della terra e se volete fare lo scan del codice QR il link vi può portare direttamente a questa a questa pubblicazione. Però quello che trovo interessante è che le zone marroni sono quelle in cui il deficit di umidità del suolo è più alto è che queste zone marroni non sono limitate alle regioni che uno si può aspettare essere più propense alla siccità come possono essere le regioni mediterranee ma l'evento del 2022 è stato un evento che ha colpito regioni che normalmente uno immagina più umide come può essere la Polonia o la Germania il nord della Francia cioè ricordiamoci che il 2022 è stato l'anno in cui la temperatura nelle isole britanniche ha raggiunto i 40 gradi per cui stiamo parlando di un effetto che ha colpito molte zone dell'Europa e quello che trovo interessante è il fatto che avere accesso a questi dati ci permette di avere da una parte un'immagine di quello che sta succedendo e in questo modo può essere un incentivo o un invito a utilizzare le informazioni che abbiamo perché mentre è indubitabile che il clima stia cambiando e stia cambiando in modo molto rapido io penso che siamo ancora un po' immaturi nella nostra capacità di gestire le informazioni che esistono su quello che è il clima attuale e su quelle che sono le tendenze future per cui avere questa disponibilità di questi dati di queste mappe come può essere questa elasticità del 2022 secondo me può essere un 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 valore aggiunto una una capacità una una chiave per risolverlo per comunque aiutarci a gestire un rischio che comunque andrà aumentando allora ho tolto il logo di BD Media io volevo visto che ho accennato qua in realtà volevo far vedere una slide che ci ha portato il direttore Carlo Bontempo che è quella sul fiumi abbiamo parlato prima di siccità ce n'era una che è sui fiumi chiedo alla regia di metterla di metterla in onda dovrebbe essere questa se magari Carlo ce la vuoi spiegare un attimo sì ma un po' va nella stessa direzione di quello che dicevo prima questo è di nuovo è una di questi di queste grafiche che faceva fa parte del nostro rapporto quello pubblicato in aprile ed è collegata alla alla siccità a quello che descrivo prima ma in questo caso invece di guardare l'umidità del suolo guardiamo la portata dei vari fiumi europei in cui il rosso indica un flusso una portata molto al di sotto delle condizioni normali e di nuovo ci stanno vari aspetti a sottolineare forse quello che più salta agli occhi è il fatto che l'impatto sull'idrologia superficiale sia stato nel 2022 abbia colpito insomma un po' tutta l'Europa non un bacino ovviamente abbiamo parlato del Po perché ci ha colpito direttamente in modo molto evidente ma non è stato un fenomeno isolato quello del Po il Danubio il Reno e la maggior parte dei fiumi dell'Europa occidentale avevano raggiunto minimi storici o prossimi ai minimi storici e in un qualche senso è un po' anche collegato a quello che dicevo prima in relazione alle energie innovabili anche se in un settore diverso o parzialmente diverso come quello della gestione delle risorse idriche secondo me una delle sfide che abbiamo davanti a noi è quella di far servire utilizzare imparare a utilizzare i dati che abbiamo a disposizione per gestire un mondo che è già fondamentalmente diverso dal mondo in cui siamo cresciuti dal mondo in cui la nostra civiltà si è sviluppata e questo secondo me è una sfida nella sfida quando parliamo di cambiamenti climatici spesso pensiamo che sia qualcosa che succederà da qui a vent'anni sarà più caldo sarà più secco ci saranno più incendi e più inondazioni in realtà già oggi il clima che caratterizza l'Europa oggi nel 2023 è fondamentalmente diverso dal clima di quando studiavo all'università e questo vuol dire che le nostre conoscenze che sono strutturate nei nostri modi di gestire il rischio nelle nostre infrastrutture nei nostri codici regolamenti legislazioni non sono adeguate necessariamente e la nostra conoscenza atavica se vuoi o la conoscenza non so le cipolle si seminano si piantano in questa stagione si raccolgono in quest'altra non è detto che funzioni più e se non funziona più adesso parlo delle cipolle ma potremmo parlare della portata dei fiumi o dei ponti o di come costruiamo le case e se la nostra conoscenza non è più sufficiente la dobbiamo imparare a gestire un dato che viene da altre fonti che viene dalla nostra conoscenza scientifica che viene dai nostri dati osservati osservati dai satelliti dai modelli o da qualsiasi altra cosa perché esiste un'informazione in queste in queste risorse che non potremmo avere altrimenti e come società non siamo ancora in grado non siamo ancora capaci ne abbiamo fatto ancora questa rivoluzione nella rivoluzione nel gestire questa informazione io volevo ricordare che il compito dei licenziati è dire i dati sono questi abbiamo sta succedendo questo poi difendiamo alla politica alla società comunque sono poi della politica che deve scegliere dove andare a investire le infrastrutture migliorarle la questione appunto dell'eolico del solare dove investire di più quella poi diventa una questione politica però Carlo visto che ne stavamo parlando volevo che l'hai accennato insomma le alluvioni appunto gli eventi estremi c'è stato pochi giorni fa in realtà se non sbaglio un lo chiamo tornado in inglese serve twister verso verso Milano nella zona di Milano ho visto ma ce ne sono stati anche in pianura padale in generale in passato nella zona di Modena sono in realtà aumentati se io penso e qui vado a memoria non so se faccio una cosa giusta o meno a livello scientifico però io non ricordo cose del genere quando ero più ragazzo adesso ogni anno almeno uno o due tornado mini tornado ci sono a stagione ecco questi eventi estremi noi ci dobbiamo abituare sempre di più a vederli e poi è possibile ridurli già da adesso oppure non c'è nulla che possiamo fare e quindi semplicemente dobbiamo abituarci e cercare appunto di proteggerci e a questo punto dicevo la politica passa avanti sì la domanda è molto chiara è molto pertinente e è una risposta complicata una risposta complicata perché in realtà non è una risposta univoca dipende molto dal estremo che stiamo valutando dipende molto dalla zona in cui stiamo per cui è difficile di fare tutta l'erba un fascio sui tornato francamente non ho studiato la faccenda non ho una una risposta conclusiva in linea di massima sarei propenso a pensare che la tendenza nel numero di tornato non sia in modo particolarmente chiaro ma potrei sbagliarmi non ho guardato i dati e quando uno non guarda i dati è meglio che non esprima un'opinione però su alcuni estremi sì che possiamo dirlo con una certa certezza a partire dalle ondate di calore le ondate di calore sono aumentate in modo sia come frequenza che come intensità in tutta Europa sono aumentate in modo chiarissimo nel Mediterraneo e continueranno a aumentare nel futuro non è l'unico l'unico evento estremo che aumenterà per esempio se guardiamo la precipitazione più intensa cioè dei giorni in cui piove diciamo o nevica la frazione dei giorni in cui piove di più nel corso di un anno ecco la precipitazione di questi giorni aumenterà e aumenterà e sappiamo abbiamo un buon motivo teorico per pensare che aumenterà e i dati in buona parte dei continenti non solo in Europa ma in buona parte delle terre emerse lo confermano per cui l'intensità di questi eventi aumenterà in modo interessante in realtà nel Mediterraneo questa tendenza è meno chiara che in altri posti però comunque rimane alcuni ragionamenti teorici che ci lasciano pensare che possa essere così anche alle nostre latitudini altri eventi che ci aspettiamo che aumenteranno sono la siccità è interessante che aumenta l'intensità della pioggia estrema ma aumenta anche la siccità per cui su queste cose lo possiamo dire dopodiché ogni evento estremo come può essere le inondazioni che abbiamo visto in Spagna o in Grecia recentemente o in Emilia Romagna l'anno scorso o in Germania due anni fa ecco ognuno di questi eventi estremi ha una sua storia ha una storia meteorologica se vogliamo ritornare alla prima domanda sulla differenza tra clima e meteorologia e merita di essere analizzato nel suo dettaglio per cui bisogna stare attenti a non attribuire tutto quello che vediamo ai cambiamenti climatici alcune cose sono diventate più intense altre cose sono diventate meno intense altre cose su altre cose non possiamo dirlo con certezza però possiamo vedere una tendenza generale questo facevo riferimento alle ondate di calore perché sulla temperatura la tendenza generale è chiarissima ma non è l'unico l'unico aspetto su cui esistono tendenze chiare ed è una branca della scienza che è in rapida evoluzione quella è l'attribuzione per cui dopo che un evento estremo è avvenuto adesso esistono delle metodologie che ci permettono di stabilire quanto il rischio di quella categoria di eventi sia o meno aumentato in conseguenza il riscaldamento dell'aumento della temperatura globale per cui è un'area di ricerca attiva che sta aumentando anche di rilevanza rispetto alla discussione pubblica sul tema di ambienti climatici Perfetto grazie Carlo ricordo a tutti non fate come me le osservazioni personali non sono statistica quindi se vi ricordate che una volta era in un modo ad essere diverso non vuol dire che ci sia un motivo scientifico o meno quindi perfetto